Ben ritrovati, nuovo appuntamento con l'informazione di TV City. In primo piano il maltempo di questi giorni che ha colpito la regione Campania e tutto il centro-sud. Non sono mancati i danni e i disagi a Torre del Greco, in particolare un albero è caduto nel cimitero cittadino. Episodio analogo anche nella traversa Gazzilli, nella zona di via Montedoro. Disaggi anche lungo la passeggiata Porto Scala via Calastro. Questa mattina abbiamo fatto un sopralluogo con le nostre telecamere per documentare la situazione. Facciamo poi il punto sull'emergenza sanitaria tra aumento dei contagi e prossima riapertura delle scuole. De Luca nella consueta diretta del venerdì ha minacciato una nuova chiusura della Campania in caso di aggravamento della diffusione del virus. Poi la consueta pagina sportiva del lunedì con la Turris, sospesa a causa del maltempo, la prima gara di campionato per i Corallini. Resta l'amaro in bocca per i tifosi. Ora il debutto sarà domenica prossima a Liguri. Questo ed altro, guardiamo i servizi. I disagi causati dal maltempo persistono e non danno tregua alla regione Campania. Diversi danni registrati su tutto il territorio. Pioggia e vento forte hanno caratterizzato questo fine settimana, segnato sin dall'inizio da un'allerta meteo arancione prevista per la giornata di venerdì e prorogata in seguito per le giornate di sabato e domenica. Campania è costretta a fare i conti con centenaia di cittadini evacuati nelle province di Salerno e Avellino. Fiumi di fango e detriti hanno colpito le zone di Sarno, Castel San Giorgio e Monteforte Irpino e hanno reso necessario l'intervento della protezione civile. Danni anche a Tura del Greco, dove il vento, con raffiche fino a 60 km orari, ha colpito diverse zone della città. Registrata la caduta di un albero all'interno del cimitero comunale, che non ha causato danni ingenti. Al momento dell'accaduto, il cimitero risultava essere fortunatamente chiuso, come previsto dalle ordinanze del sindaco, che preventivamente ne aveva vietato l'accesso al pubblico, nelle giornate del 26 e del 27. L'area interessata dalla caduta dell'albero è attualmente recintata e inaccessibile ai passanti, in attesa della rimozione del materiale legnoso. Episodio analogo in Traversa Garzilli, dove la caduta di un albero ha causato la rottura di una recinzione privata. Legne e rami sembrerebbero essere attualmente sistemati in una pineta adiacente alle abitazioni, in attesa di un'eventuale rimozione. Ci troviamo alla passeggiata Porto Scala di Torre del Greco. Alle mie spalle un bar completamente raso al suolo dal maltempo di questi giorni, dalla forza impetuosa del mare. Immagini che parlano da sole. Questa mattina, con le nostre telecamere, abbiamo documentato la situazione in cui versa la passeggiata Porto Scala di Torre del Greco. La zona, già precedentemente trascurata, appare adesso fortemente danneggiata dal maltempo di questi giorni. Un bar del posto è stato persino raso al suolo dal mare mosso. Ribaltate travi, tavolini, sedie e persino i bagni. Come potete notare, ecco, ci sono diverse sedie ribaltate, addirittura le travi completamente distrutte e persino i bagni ribaltati, schiantati, ecco, sul suolo. A pochi metri, ammassati sugli scogli, si segnalano accumuli di rifiuti di ogni genere. Cassonetti riversati di strada e spazzatura abbandonata. Un copione che si ripete spesso in occasione del maltempo e che lascia ogni volta nel degrado l'intera zona, frequentata regolarmente da famiglie con bambini per la presenza di giostrine. Intanto, la protezione civile ha prorogato l'allerta meteo fino alle 6 di domani mattina, martedì 29 settembre, con criticità gialla. Preoccupazioni in Campania per l'aumento dei contagi e per la riapertura delle scuole. I dati riguardanti l'emergenza sanitaria nella nostra regione sono sempre più drammatici. Con più di 200 tamponi positivi al giorno, siamo attualmente il territorio italiano con il maggiore incremento dell'epidemia. Notizie che rispecchiano quanto annunciato al presidente De Luca nell'ultima diretta Facebook di venerdì. Il governatore aveva dichiarato, sulla base dei dati raccolti dai suoi consulenti, un incremento esponenziale dei contagi fino al 21 ottobre. La previsione che fanno i nostri epidemiologi da qui al 21 ottobre è di un incremento di 5.000 contagi. Nella stessa occasione, De Luca aveva anche minacciato una possibile chiusura della Campania in caso di aggravamento della diffusione epidemiologica. Dobbiamo rispettare rigorosamente le regole e sottoporci a qualche piccolo sacrificio. La mascherina va indossata sempre quando si è fuori e sulla bocca, non sul gomito, sulla bocca e sul naso. Se non sarà così, se nei prossimi 3-4 giorni verificheremo con i nostri epidemiologi che la curva del contagio, anziché stabilizzarsi o scendere leggermente, si aggrava, noi chiuderemo tutto. Dopo il discusso obbligo di indossare la mascherina all'aperto ed in ogni fascia oraria, a prescindere dal distanziamento dalle altre persone, lo sceriffo ha predisposto anche tamponi obbligatori per chiunque rientra in Campania tramite l'aeroporto di Capodichino. Il governatore ha anche invitato tutti i docenti delle scuole campane a non viaggiare in altre regioni per poter tenere maggiormente sotto controllo la diffusione del virus e non mettere in pericolo gli studenti. Ed è proprio il ritorno fra i banchi la preoccupazione maggiore. Molti sindaci hanno rimandato l'apertura, prevista per dopo le elezioni, ad oggi o direttamente al 1 ottobre. Mascherine, misurazioni della temperatura all'ingresso, alternanza fra giorni in presenza e tramite didattica a distanza caratterizzeranno almeno i primi mesi di questo anno scolastico atipico. Piovono rassicurazioni come quella del sindaco di Ercolano Bonaiuto agli studenti che hanno cominciato oggi. L'amministrazione, i dirigenti scolastici e l'ufficio tecnico dell'ente, spiega il primo cittadino, hanno lavorato anche nel mese di agosto per garantire la massima sicurezza ai nostri figli. Questa settimana, continua, ci sarà un costante monitoraggio per valutare eventuali correttivi. O auguri come quelli del Monsiglio Ralfano. L'inizio di un nuovo anno scolastico segna sempre una tappa importante non solo per studenti e insegnanti, ma per l'intera società che investe e prepara così il suo futuro. Anche disagi dovuti alla pioggia in molti comuni, che hanno costretto i ragazzi a dover aspettare la possibilità di entrare a scuola, fra controlli e orari scaionati, sotto l'acqua. Intanto, l'ASL Napoli 3 Sud ha lanciato un programma per formare docenti specializzati anti-Covid. Si tratta di un corso volto a preparare personale scolastico sull'enorme anticontaggio e sulle modalità per farle rispettare all'interno degli istituti. Siamo gli unici in tutta Italia ad offrire un servizio del genere alle scuole e da tutta la comunità, dichiara il direttore sanitario Gaetano Donofrio. Resta, tuttavia, un ritorno fra i banchi amaro, offuscato dalla paura di un nuovo lockdown, più che di interrogazioni o compiti in classe. Una pioggia torrenziale si è abbattuta ieri su tutta la campagna, tanto da costringere l'arbitro di Avellino Durris a decretare la sospensione definitiva della prima partita di campionato che segnava il ritorno dei corallini tra i professionisti. Il match del partenio tra i lupi bianco-verdi e gli uomini di Fabiano era iniziato sotto un forte diluvio che aveva già ridotto il terreno di gioco ad un enorme acquitrino e dalle prime battute era già apparso chiaro che i giocatori avrebbero avuto serie difficoltà ad stare in piedi. Al nono minuto il direttore di gara richiama le squadre negli spoglietoi nella speranza che le condizioni meteo e il terreno migliorino, ma anche i successivi sopralluoghi hanno costretto l'arbitro a fermare tutto e rinviare la gara adatta da destinarsi. Resta così la mano in bocca per tutti i tifosi che aspettavano da anni questo momento e che ora dovranno attendere ancora una settimana per sostenere i propri bianemini, seppur da lontano per la persistente chiusura al pubblico degli stadi. I corallini quindi debutteranno concretamente il campionato tra le Muramiche ospitando la Virtus Francavilla auspicando la clemenza meteorologica.